Siamo in un posto stupendo, si chiama Crucuris Resort, a Villa Sinius, un posto eccezionale, tranquillissimo, e lì siamo facendo, lanciando ufficialmente il Sochic Spritz, eh sì! E allora questa sera, qui in questo posto meraviglioso, guardate, non è male no? Abbiamo l'opportunità di fare conoscere la ricetta del Sochic Spritz agli ospiti di questo hotel meraviglioso, che è uno dei più belli hotel, tranquillo, in questa zona di pace, di serenità, e anche con della musica meravigliosa. È un bijou. È un bijou, esattamente. Allora, grazie a quelli che hanno organizzato questo, che sono delle persone bellissime, e che ci hanno proposto di venire qui per iniziare, lanciare il Sochic Spritz. Cin cin!